Eccoci qua Mr. Helmet e Icma, siamo da Nex, distribuito da Motor Quality, casa portoghese con caschi tutti made in Europe, ci hanno richiamato perché abbiamo recensito recentemente un loro prodotto, l'XR1, notando alcune migliorie da fare, le hanno già fatte, questo è l'XR2, è un casco molto simile a quello che abbiamo già presentato su Mr. Helmet, ma migliorato. Migliorata la visiera, adesso c'è la visiera piana in versione racing con la possibilità dei tir off e del pillock, quindi adesso con questo casco si può andare in pista ma ci si possono fare finalmente anche le corse a livello professionale, migliorate le prese d'aria più gommose, migliorato lo spoiler che qui è in una versione ancora prototipo ma sarà gommoso anche questo e quindi virtualmente inistruttibile. Migliorati gli interni, il casco XR2 che è disponibile in varie versioni, dalla versione fluo alla versione ad alta visibilità come vedete, la versione tutta opaca, la versione tricolore perché non c'è pilota italiano che non ne desideri una, fino alle versioni full carbon, queste qui con grafiche fluo a vista, bellissimo, va dai 450 fino ai 450 euro della versione carbon. L'XR2 adesso è pronto anche per le corse. Andando avanti abbiamo un casco turistico, questo è un integrale, l'XT1 che recepisce le migliorie anche del modello racing, migliorate le prese d'aria più gommose finalmente e anche più resistenti al tatto, la sensazione è decisamente questa, ha una visierina parasole. Gli interni sono migliorati e l'XT1 arriva a un prezzo di 350 euro nelle versioni dal monocolore fino a quelle ad alta visibilità che sono attualmente irrinunciabili. La Gamma Nex, questo produttore portoghese continua, noi andiamo a vedere l'X40 che è un casco da enduro, in realtà è un casco urbano da commuting con mentoniera staccabile con la visierina a scomparsa e in più la novità del frontino che può essere però anche rimosso. Qui vedete le varie configurazioni con frontino, mentoniera, senza la mentoniera, senza frontino, tutte le versioni disponibili. Molto interessante è la configurazione, la scelta dei colori molto militari, molto da guerriglia, vanno da questi colori cachi e militari fino ai vari tipi di mimetici, anche questo mimetico un po' improbabile fluo ad alta visibilità. Questa è abbastanza una novità per chi è indeciso fra il giallo e l'arancio ed essere visto può scegliere questa versione qui. Questo è l'X40 e costa fino a 350 euro, sempre da Nex che ricordiamo fa caschi in Europa. E l'ultimo è quello più urbano di accesso maggiore con solo i 99 euro, portate a casa lo Switch che è un gettino molto agile che però non rinuncia a nulla, ha una visiera molto lunga e molto profonda, quindi anche quando fa freddo potete usarlo finalmente senza paura, ha una visiera a scomparsa e la caratteristica di poter cambiare le calotte. Io conto 2, 4, 6, 8, 10, 12 colori, è possibile sostituirli, ci sono sia quelli un po' più seriosi che quelli fluo ad alta visibilità. Importante anche le visiere, sono di vario colore, si va dall'Iridium alla Fumé a una un po' più green. Con solo i 99 euro portate a casa un sacco di roba e potete personalizzare il vostro casco. Tutta questa roba è già disponibile, è distribuita da Motor Quality che ci tiene a farci capire che ha recepito anche i consigli di Mr. Helmet, me l'hanno detto i responsabili della casa sulle migliorie soprattutto nel casco racing, potete portare a casa tutto quello che volete tranne i loro due. e quindi noi abbiamo finito così. Ciao da Nex e da Mr. Helmet.